Abbiamo conosciuto Immagini e Suoni nel 2021, ci ha supportato nell'organizzazione del nostro kick-off della Digital Security. Quell'evento si è svolto in modalità streaming. Quest'anno insieme a Immagini e Suoni siamo alla Darsena del Sale a Cervia per il kick-off della Digital Security. Il kick-off della Digital Security per noi rappresenta un momento di condivisione degli obiettivi da raggiungere e di presentazione degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente. Quest'anno abbiamo aggiunto la componente della band che è stata completamente gestita da Immagini e Suoni. Abbiamo avuto una platea di 210 persone che volgeva la sua attenzione in un LED wall di oltre 36 metri quadri, particolarmente avvolgente. Oltre all'aspetto lavorativo c'è sempre stato anche un ottimo rapporto umano che per noi rappresenta un valore aggiunto per raggiungere l'obiettivo finale.